Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Ai Parioli sono terminati i lavori a CEA in Piazza Ungheria, sono state quindi riattivate le linee tramviarie 2, 3 e 19. In particolare i collegamenti 2 e 19 sono tornati su tram lungo l'intero itinerario, il 2 tra Piazzale Felaminio e Piazza Mancini, il 19 tra Piazza dei Gerani e Piazza Risorgimento. La linea 3 invece sempre da oggi viaggia su tram tra Porta Maggiore e Valle Giulia, mentre è ancora sostituita da bus tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere per i lavori che stanno interessando i binari di Viale Trastevere. Lavori a causa dei quali, lo ricordiamo, la linea 8 viaggia su bus lungo l'intero itinerario Casaletto-Piazza Venezia.